Stai cercando la Lumimaka e non sai dove trovarla? Ebbene, sei nel posto giusto. Ciao, sono Cinghiale di Ferro e in questo video ti mostrerò come finire la missione sulla Lumimaka. Questa missione fa parte solamente del DLC. Dovremmo partire per una spedizione di livello maestro sulle isole ghiacciate e scegliere notte. Non importa se vogliamo farla in singolo o in gruppo, l'importante è che sia notte, livello maestro e isole del ghiaccio. Dopodiché apriamo subito la nostra mappa e dirigiamoci verso il punto 8. Da qui, non molto distante dall'accampamento, giriamo sulla destra. Utilizziamo l'insetto filo per superare la barriera di ghiaccio, non come ho fatto io in questo istante. Superata questa barriera, dirigiamoci verso la nostra destra, dove vedremo questa nave congelata. Seguiamo il sentiero. Dopodiché saliamo sulla nave congelata. Quando arriveremo sulla nave, la creatura non sarà sempre presente. Dovremmo aspettarla. Tutto sommato, è una Lumimaka e anche lei vuole il suo tempo. La parte in cui apparirà sarà proprio questa, dinanzi a voi. Vi consiglio di non utilizzare l'obiettivo e puntare quella sezione. Ho notato che se proviamo a fare così, il tempo di attesa per far apparire la Lumimaka sarà maggiore. Naturalmente, quando apparirà, sentiremo come uno strano urlo, quasi un verso di una balena. Ed ecco a voi che sorge dalle montagne la maestosa Lumimaka. A questo punto, potremmo prendere la nostra macchina fotografica e scattare una foto. Come potete notare, al momento non appare nessun simboletto, ma ora, se vedete nell'obiettivo, appare quel piccolo asterisco arancione. Quindi significa che in questo preciso istante, se scattiamo una fotografia, sarà valida per il completamento della missione. Ed eccola qui in tutta la sua lentezza e bellezza. Spero che questo video, per quanto riguarda la missione della Lumimaka, ti sia servito. Io ti invito a guardare anche altri video, per quanto riguarda il fantastico mondo di Monster Hunter Rise e Monster Hunter Rise Sunbreak. E per il resto, dal vostro Dani T, o Cinghiali di Ferro è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Grazie.